2019 riparte il punto e a capo. Dopo la breve sosta di fine anno ricomincia l'appuntamento del sabato con i protagonisti che si alterneranno nello spazio al loro riservato nella nostra rubrica. Ospite della prima puntata del nuovo anno il presidente del Consorzio Universitario Archimede, Silvano Larosa. Consorzio Universitario Archimede, quali sono gli scopi del Consorzio, quali sono gli obiettivi per il 2019? Ne parleremo sabato prossimo 12 gennaio a punto e a capo. Sabato 12 gennaio alle ore 14.30 dopo triste telegiornale andrà in onda a punto e a capo. Vi aspetto!